Il primo telaio Titan progettato da noi, fu il primo che non dovemmo rubare all'IMC. Forza, fuciliere, chiama il tuo primo Titan. Guarda su, in cielo. Eccolo. Va bene, fuciliere. Sembra che la situazione peggiori. Ti tiro fuori. Spegnimento di tutti i sistemi non essenziali. Cooper, preparati. Calma, Goll. È appena uscito dalla simulazione. Serve un minuto per la decompressione. Sarà pronto a partire. Fidati. Sì, signore. Personale alle postazioni di battaglia. Non è una verificazione. Occhio! Ci uccidono. O almeno ci provano. Ottima sessione. Vedrai che ci farai la mano. Ti faremo diventare un pilota, fuciliere. Ma non oggi. Non c'è tempo. Lastimosa. Endersio di puttana. Ci vediamo laggiù. Oggi vedremo un nuovo pianeta. E forse ci moriremo. Ci vediamo laggiù, Cooper. Buona fortuna. Esci dalla capsula, Cooper. Ci vediamo alla navicella da trasporto. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.